ciao appassionati benvenuti sul canale famiglia Hamilton orologi non solo oggi altra puntata sul timex expedition north che abbiamo già visto in un video di qualche settimana fa che qui sotto trovate il link come trovate anche il link di amazon per l'acquisto però andiamo a vedere perché io ho deciso di restituirlo adesso andrò ad elencarvi prime pregi e poi difetti l'ultimo difetto è quello che mi ha fatto smettere di essere innamorato di questo orologio primo pregio portabilità cioè questo orologio è veramente portabilissimo molto contenuto il suo 38 mm fantastico veramente un orologio adatto a tutti i giorni molto leggero poi troviamo anche un'altra qualità davvero stupefacente l'impermeabilità 10 bar quindi un orologio che possiamo utilizzarlo al mare utilizzarlo in piscina senza nessun tipo di problema perché 10 bar comunque ragazzi l'unica cosa che dovete fare è controllare sempre che la comana sia all'interno ma lo faccio anche con quelle avite con le avite prima di entrare in acqua comunque controllo se sono avvitati quindi la leggibilità la leggibilità è davvero fenomenale in qualsiasi angolazione tutto anche se dietro non ha proprio un grandissimo trattamento antiriflesso ma la cosa non mi preoccupa non da nessun tipo di problema e onestamente l'ho trovato molto leggibile soprattutto la luminescenza luminescenza notturna è davvero un fanale tutti gli indici sono illuminati le sfere è una cosa spettacolare e io di notte prima andare a letto lo numero sempre con la lampada uv cosa che magari qualcun altro di voi fa questo qua non magari no sì perché anche pur avendo l'orologio che proietta sul muro io quando mi sveglio guardo sempre l'orologio al mio polso è il mio problema la luminescenza di questo orologio anche senza andarlo a illuminare durava fino al mattino senza nessun problema quindi davvero ottimi punti oltre poi comunque questa cassa che sembra titanio ma realmente non lo ha un trattamento fatto da loro e che lo rendeva veramente bello la cassa a da qualche piccolo problema nel momento che noi vogliamo adattargli un cinturino come ho fatto in questo momento perché il suo bracciale originale che questo già avevo detto che comunque non era al massimo ve lo confermo guardate qua finali completamente vuoti ciocca tutto vabbè il bracciale di sicuro non vale questi soldi ma non è stato quello che mi ha fatto scegliere di renderlo adesso vi spiegherò bene e comunque con questo nato anzi zulu scusate non è un nato sta da dio facendo una figura davvero l'ho indossato per circa 15 giorni ma veramente veramente mi dava tantissima soddisfazione e gli sta molto bene e ora vi dico la problematica riscontrata che mi è stata suggerita da un amico del canale salvatore che qui vedete il commento lo ringrazio molto perché quando mi è arrivato l'orologio io non ho fatto nient'altro che fare l'unboxing che voi avete visto anzi molto di fretta neanche sono andato ad informarmi sul calico e tutto ma su orologi di questa cifra non vado a effettuare ricerche e in più non volevo che amazon cambiasse il prezzo al che dopo questo commento che voi vedete ho iniziato a testarlo più o meno era dopo dieci giorni e io quando vado o il problema contrario per fortuna vado a testare la corona come le notate qua la lancetta dei minuti va indietro vado a regolare l'ora schiaccio va avanti e è un difetto che non si può tenere su un orologio soprattutto pignolo come sono io perché comunque io l'orologio quando lo regolo metto l'hacking dei secondi ai 60 giusto aspetto l'iphone che arriva lì do lo stop alla corona quindi da lì durante il giorno riesco a vedere quanto avanza o vantorità da un orologio e questa cosa quale secondo me in questo momento è andata bene stranissimo molto strano però ripetendolo più volte da appunto questo tipo di problema e quindi mi dispiace movimento segal e non miota come avevo detto no non è per nulla affidabile mi dispiace perché realmente ci credevo a timex che era riuscito a fare un prodotto interessante un orologio meccanico come lo facevano nei tempi per i militari purtroppo questa cosa non è andata a buon fine niente l'orologio verrà restituito vi consiglio ad acquistarlo non vi dico di no magari sono stato sfortunato io e il nostro amico non è che tutti i calibri magari danno questo tipo di problema però se dovete acquistarlo acquistatelo su siti sicuri come amazon perché comunque amazon vi ricordo che questo orologio anche se ha neanche un mese è in garanzia per due anni quindi io tra due anni vado prima dello scadere della garanzia posso contattarli e dirgli l'orologio non funziona e amazon comunque i miei soldi sono sicuri magari se andate ad acquistarlo su altri siti non tanto garantiti questa garanzia non l'avete quindi se volete togliervi lo sfizio non è che ve lo sconsiglio proprio io personalmente non è questo difetto non riesco proprio a mandarlo giù e quindi basta finisce così bene il video termina qua vi ricordo se il video vi è piaciuto mettete un bel like se volete iscrivete al canale che per voi è gratuito ma per noi vuol dire veramente tanto e se volete rimanere aggiornati spuntate la campanellina così variano le notifiche ciao a tutti grazie alla prossima